E riuscire qui con un nuovo video ragazzi, io sono Cri e da oggi siamo tornati su Football 2024 Ci riproviamo, ci riproviamo ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere Oggi andremo a riprovare Gavi, rifaccio vedere le sue statistiche Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta dopo l'ultimo video dovuto per forza chiudere Quindi ci riproviamo in questo video, staccato, vediamo un po' come va Anche no, anche no grazie Ok, a frecce Oddio, non c'è nessuno completamente su, neanche in panchina Eh, andiamo così ragazzi, che vi devo dire Questa è la squadra del nostro avversario Non ho ben capito quel Maradona CC Per il resto, bella squadra Oltretutto ragazzi, inizia così la prima partita di quest'oggi Ma mi sono accorto con grande dispiacere che sono un cretino Sono doppiamente cretino, perché l'ho fatto nello scorso video E lo sto rifacendo adesso, sto utilizzando ancora possesso palla ragazzi Non mi sono accorto Non mi sono accorto Sto utilizzando ancora possesso palla e quindi È normale che poi non mi esce quello che voglio far uscire Beh, ne marcia 83 Non ha tanto di tiro a giro, ma ci proviamo lo stesso Provare non costa nulla Al pelo, eh, il pelo Cioè un centimetro più in là Ed era palo Vabbè, stricca intatta Nel caso, nel caso Bellissima azione Qui c'è Mbappe free to play Mi aspettavo il gol, eh Mi aspettavo il gol Qui Gavi Di tacco Di prima C'è Avers Avanti per Gavi Avanti Avanti ancora Gavi vuole provare il tiro Peccato Beckenbauer avanti Attenzione Il passaggio di prima Ebbè, è giusto, è giusto, è giusto Gramba il gol del pupone Dopo il palo preso da parte di Neymar Dopo le campane che sfracellano la minchia Riusciamo a dare in vantaggio Qui bellissima azione Ancora una volta ci riprova Avers Qui falciato Avers Prima del tiro Ci starebbe anche un cartellino Non gli darà nulla Ma abbiamo un'altra opportunità Su punizione Ma sapete che qui vedo Il pupone bello libero Gli farei fare un bel tiro di prima Ed è 2 a 0 Al trentacinquesimo Doveva essere premura dell'avversario Curarmi il pupone Che bella azione Ci arriva Avers Da una posizione impossibile La stava buttando dentro ragazzi Ve lo dico Ve lo dico Qui Gavi si gira Che è una meraviglia Fa ripartire l'azione Poi Avers Orca di quella troia Bruttissimo fallo Questo da rosso diretto Non gli darà neanche il giallo Abbiamo La terza chance Su punizione Qui non vedo nessuno Di libero Qui non vedo nessuno Di libero Quindi vi dico Provo a farla passare sotto Ed è 2 su 2 ragazzi Anzi 2 su 3 Una posizione L'avevo sbagliata Non so se era nello scorso video In questo Comunque 3 a 0 Chiusa la partita Neymar Junior Qui bella azione Belli 1-2 Ancora Avers Che si accentra Finisce così ragazzi 3 a 0 per noi Vittoria Più che meritata Direi che Ce la siamo portata a casa Nel migliore dei modi Secondo avversario Di questo oggi Intanto chiuso la finestra Sia per le campane Sia per la luce Ok Frecce Siamo messi Forse un pelo meglio di prima C'è almeno Neymar Tutto su Direi che possiamo andare Con la titolare Questa È la squadra del nostro avversario Affrontiamolo Inizia così La seconda partita Di quest'oggi Subito il recupero di Gavi Aggressivo E io ancora Ancora una volta Ancora una volta Da bravo coglione Cosa ho fatto Non ho mica cambiato L'allenatore Continuiamo a giocare Con possesso palla Sono video che ormai Che gioco con possesso palla E cioè Lo sento che faccio più fatica I giocatori si muovono In un altro modo La squadra Si muove in un altro modo Devo dirvi Sincero Sincero Che è un bel gol Di merda È un bel gol Di merda Perché era un passaggio A Ter Stegen Praticamente Che ovviamente È sfociato in goal Guardate qui Erpupone cosa fa Ecco questo Era un passaggio A Neuer Che ovviamente Non è sfociato in goal Bensì In un semplice passaggio Neanche questo Neanche questo Evidentemente Deve sfociare in goal Bellissima azione Qui Neymar Junior Neymar Junior Si accentra Neymar Poi Avers È il quattordicesimo Ragazzi Siamo a 4 5 Tiri Non lo so Uno dell'avversario Che dirvi Che dirvi Iniziamo male Anche questa partita Eccolo qui Gavi A proposito di Gavi A proposito di Gavi Meno male che ha tirato Ragazzi Perché Neuer C'era arrivato ancora Ma Neymar Allo stesso tempo Porta libera Non sbaglia Uno a uno Guarda che azione Guarda che azione Sfondagli la porta Sfo Non dovevo farlo caricato Mi sa che non è neanche calcio d'angolo questo Mamma mia cazione Neymar Cos'è Cos'è Quimba Prova ad accentrarsi Poi la dà A Totti Che la smorbida E mezzo Qui si guadagna un bel fallo Avers Che non Evidentemente non è fallo Per Per Konami Ma A lui non frega Lui continua Ad assediare l'avversario Guardalo Pericoloso qui Gavi Guarda che azione Dio santissimo Se Se soltanto Avers fosse riuscito A tirare Come gliel'aveva data Mbappé Poi Qui Mbappé Si gira Di prima Altra Paratona Di Neuer Avers La fai una sponda Bella sponda Guardalo Ce n'era uno Ovviamente 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 Fatti i cambi ragazzi Ovviamente Non ho tolto Gavi Che è l'unico Rimasto qui dentro Tagliala subito Vai CR7 Appena entrato CR7 È sempre lui È sempre lui Ragazzi È sempre lui Questo è quello dei rigori Prima volta che lo provo Sinceramente Quindi ci faremo un video dedicato Ma adesso mi serviva Mi serviva Mi serviva Ho puntato su Sull'uomo giusto Come sempre CR7 Entra Unchino un gol Bravo Gavi Tienila Bravissimo Ancora nostra No il passaggio Era per Gavi Il passaggio Era per Gavi Bravissimo Gavi Dagliela subito Son Son Yumin Regalato Attenzione Son Dio di un dio Guarda guarda Che cazzo succede Quei attenzione Perché c'è Messi Che si accentra Messi Prova il tiro Giro Lionel Messi È entrata ragazzi E come CR7 L'ha Svoltata I due Goat Ci portano la vittoria Vero Ancora non quitta Ancora non quitta Guarda che inserimento Guardalo Guarda come la chiude Dio Quanto Di poco Qui Gavi Qui Gavi Invece Ha provato Ci ha provato Però la palla è ancora lì Il passaggio è ancora per Gavi Ancora Gavi Che si accentra Gavi prova il tiro Giro Gavi E la chiude Son 4 a 2 ragazzi All'87esimo Eravamo Forse in svantaggio Non mi ricordo più Sinceramente Mi sembra di sì E l'abbiamo ribaltata Meritatamente Contro tutto E tutti ragazzi Bella partita Davvero bella partita Contando che sto giocando Con non la mia squadra E non il mio stile È stata una bella partita Ragazzi Non gliela togli A Ronaldo Non gliela togli Non gliela togli E rischia sempre di segnarti Assurdo Qui altro recupero di Gavi Che dà un passaggio perfetto Per Son Che lo mette praticamente Davanti al portiere Poi Ronaldo Ragazzi Stonoyer Assurdo eh Stonoyer Ne ha prese una ventina Poteva finire 20 a 2 Sta partita 20 a 0 anche Ne ha prese una valanga Una valanga Migliore in campo Vabbè Ho provato a metterla in mezzo Me la son portata fuori Finisce così 4 a 2 per noi Bella partita Anzi Belle partite Devo dire Da parte di Gavi Ovviamente Quindi finisce così Il video di oggi Con 2 vittorie su 2 Gavi ragazzi Vi devo dire Allora non mi ha Non mi ha Entusiasmato A tal punto di dire Quanto è forte Cosa ha fatto Su giù E non è la norma ragazzi E' un free to play Lo prendete con i contratti mirati Quindi E' una bella carta Indubbiamente Per avere queste statistiche Doverete Rinunciare a un po' di cose Ragazzi Non ha fisico Non ha colpo di testa Non ha salto Non ha neanche difesa Cioè Aiuta in difesa Ma non è bravo in difesa Quindi c'è il sì e il no Comportamento offensivo Non ne ha tanto Quindi non potete usare Lo TRQ E' un giocatore chiave Quindi per forza Centrocampo Dovete utilizzarlo Il ruolo perfetto Era proprio questo qui CC Ok Forse dovevo rinunciare A un po' di dribbling O un po' di passaggi O un po' di aggressività Convolgimento difensivo Per la velocità Un po' di velocità Accelerazione in più Non lo so Almeno portarli Non so Un 84 85 Una roba del genere Può essere Può essere Però la build In realtà non mi dispiace Così tanto E' che è una bella carta Ma può dire la sua Magari quando lo tenete in panchina Lo trovate su Lo mettete dentro Ecco Non è una carta Da far partire titolare Diciamo che Ad esempio con questo Pedri Non c'ha nulla a che vedere Pedri 10 spanne sopra Stessa cosa per Kimmich Che è molto molto più completo Stessa cosa per Bellingham Che infatti è quello che Rimane dentro In questa squadra Quindi ragazzi Comunque è una bella carta Secondo me Vale la pena Spenderci il contratto mirato Ma soltanto Se non avete già Carte sbroccate Lì a centrocampo Perché altrimenti Non serve a niente Quindi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivedremo In un prossimo video Ciao a tutti